Il risorto alla giornata mondiale della gioventù. Davanti ad un folto pubblico, giovedì 18 agosto, l'Accademia Arena Artis di Chioggia e Padova Danza hanno portato in scena, nella cornice del parco Tierno Galvan, il musical Il Risorto di Daniele Ricci per la regia di Antonia Varagnolo e Gabriella Furlan Malvezzi. Lo spettacolo, che fa rivivere la passione di Gesù da Lausanne fino alla resurrezione, è stato portato a Madrid in occasione della giornata mondiale della gioventù, che ha visto l'arrivo nella capitale iberica di milioni di giovani provenienti da ogni parte del mondo. Soddisfazione da parte di Antonia Varagnolo, direttrice artistica di Arena Artis e co-regista del musical. Un'esperienza che lascerà il segno su ognuno di noi, dice Antonia, un sogno che si è realizzato. Il Risorto è stato accolto con grande entusiasmo e ci ha dato la conferma che molti giovani credono e si aggregano per testimoniare l'amore del Cristo e la partecipazione della croce che ogni essere umano porta. Il Risorto è stato accolto con grande entusiasmo e ci ha dato una rispondenza del nostro gruppo, che si è realizzato. Il cast della Risorto ha avuto anche la bella soddisfazione di essere utilizzato durante la sua permanenza a Madrid per la realizzazione della sigla del programma Rai a sua immagine in onda su Rai 1, un programma dedicato proprio all'evento della giornata mondiale della gioventù. Ora ti voglio dietro me, e dove tu mi seguirai, accenderò con te il mio cielo, perché sarò sempre con te. Signore mio, Dio mio, il Signore adesso in mezzo a noi, il Signore dell'anima. E' risorto il Signore, è risorto l'amore, è risorto l'amore, è risorto l'amore, la vita è fra noi, è risorto. Nella potenza dello spirito, è risorto il Signore dei popoli, è risorto il Signore, è risorto la vita, è risorto la vita, è risorto. E' risorto il Signore, è risorto l'amore, è risorto la vita, è risorto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.